Una domanda importante è chi può ricevere lo Spirito Santo? Perché noi sappiamo che il sacerdote unto riceve lo Spirito Santo. Il fedele unto con l'unzione della cresima, poi prima, dopo il battesimo, riceve lo Spirito Santo. Il problema con lo Spirito Santo, come sappiamo, è una colomba. E una colomba, basta mezza parola, basta un bu, si prende paura e va via. Che cos'è questo bu? Basta uno sguardo impuro, basta una parola che manca di carità e lo Spirito Santo se ne è già andato. Non pensare che ti puoi tenere lo Spirito Santo e fare i tuoi porci comodi. Non è possibile. E questo lo devo dire anche guardando a me stesso, quante volte perdo la pazienza e manco di carità. Ammesso e non concesso che pazienza e carità siano la stessa cosa, però forse qualche coincidenza c'è. Nella Valtorta c'è una visione bellissima di quando c'è la presentazione di Gesù al Tempio. Arriva Gesù piccolino presentato al Tempio e a chi lo presentano? Al sacerdote. E il sacerdote prende questo bambino, fa i suoi riti come al solito e poi se ne va e buonanotte al secchio. Non ha capito niente. Ha visto un bambinetto come tanti, ha visto una delle tanti arnesi della catena di montaggio del sacro da mettere nel conto. Poi arrivano lì Simeone, un vecchierello, disprezzato da tutti, e la profetessa Anna, e in quel bambino riconoscono il Salvatore, il Messia. Cosa ci insegna questo? Capitolo seguente della Valtorta, l'Evangelo come mi è stato rivelato, insegnamenti che sgorgano dalla scena precedente. Non al sacerdote immerso nei riti, ma con lo spirito assente, sibbene a un semplice fedele si svela la verità. Eh sì, la verità non è una prerogativa esclusiva del clero, anzi si direbbe da questa cosetta che sia una prerogativa certamente non del clero, che è in tutt'altre cose affaccendato e non riconosce Cristo, anzi poi alla fine lo fanno ammazzare proprio i preti, anzi il pontefice Caifa del tempo. Lo spirito di Dio, continua Gesù, può se vuole tuonare e scuotere come folgore terremoto anche lo spirito più ottuso, a me verrebbe, vedete, di prendere un grosso randello nodoso e aiutare certi preti, certi vescovi, certi cardinali a capire un po' meglio le cose, però lo spirito santo non fa così. Quando mi sceglierà come suo consulente vediamo se accetta la terapia del randello nodoso, forse no. A volte però sì, attenzione, perché poi ci sono anche le persecuzioni, c'è stato il risorgimento, ci sono state le persecuzioni degli islamici, dei laicisti come ci sono adesso, adesso c'è questo compromesso cei, otto per mille statui di seguito, ma verrà il giorno in cui, dopo che ti hanno tirato, tirato e tirato verso il baratro, poi la Chiesa precipiterà e sarà perseguitata, e allora forse sarà il momento della persecuzione. Non è ancora abbastanza perseguitata, ancora gli danno la carota dell'otto per mille. Dio può, se vuole, scuotere con un gran tuono anche lo spirito più ottuso, come spesso quello dei preti. Lo può, ma generalmente, poiché è spirito di ordine, come ordine Dio in ogni sua persona e modo di agire, esso si effonde e parla, non dico dove è merito sufficiente a ricevere la sua effusione, perché allora ben poche persone riceverebbero questa effusione, e tu pure, dice a Maria Valtorta, non ne conosceresti le luci, ma là dove vede buona volontà, buona volontà di meritare la sua effusione. Per questo è particolarmente grave che abbiano cambiato il gloria dicendo pace in terra agli uomini che Dio ama, ma Dio ama tutti, e quindi dovrebbe dare la pace a tutti? L'arcobaleno a tutti? No! Pace solo a quelli di buona volontà, perché i cattivi, gli empi, gli omicidi, fornicatori, gli effeminati, eccetera eccetera, come dice San Paolo, non devono avere la pace, perché se avessero la pace rimarrebbero nel loro peccato, devono essere nella inquietudine, nella sofferenza, evidentemente perché vivono nel peccato, e questa sofferenza però è redentiva, perché li aiuta a uscire da quella rogna in cui si sono messi, in cui hanno detto sì al demonio, e quindi non pace in terra agli uomini amati dal Signore, no, pace in terra a quelli di buona volontà, perché è nella volontà di Dio che c'è la pace, non nel peccato, altrimenti trasformiamo, come spesso si fa di questi tempi, le preghiere da atto di salvezza a atto di condanna, cioè noi chiediamo che Dio benedica il peccato, ci dia la pace anche se noi vogliamo fare i nostri porci comodi, e Dio non fa così, non fa così, per fortuna, nemmeno se glielo dice qualche prete, neanche l'acei, no, non ascolta l'acei Dio, per fortuna. E continua Gesù, come si esplica la buona volontà? Con una vita fatta per quanto vi è possibile tutta di Dio, nella fede, nell'obbedienza, nella purezza, nella purezza, perché oggi con questi arcobaleni ci vogliono dire che a Dio va bene tutto, arcobaleno, io posso fare i miei porci comodi con chi mi pare, arcobaleno, va tutto bene, pace agli uomini amati dal Signore. No, no, non va bene quello. La buona volontà non è quella, quella è cattiva volontà di rimanere nei propri peccati, di pretendere che Dio benedica i tuoi sordi di peccati e Dio non li benedirà. E se insisti, prima o poi sappi che c'è il capiente piano di sotto che ti accoglierà. E anch'io, se vivo nel peccato, sono destinato all'inferno. Questa è la verità. E quindi viviamo nella grazia di Dio, nella purezza, nella carità, nella generosità, nella preghiera, non nelle pratiche, sottolinea Gesù, ma nella preghiera. Vi è differenza minore fra la notte e il giorno che non fra le pratiche e la preghiera. Questa è comunione di spirito con Dio, dalla quale uscite rinvigoriti e decisi a essere sempre più di Dio. L'altra è un'abitudine qualunque, fatta per scopi diversi, ma sempre egoisti, la quale vi lascia quelli che siete, anzi vi aggrava di una colpa di menzogna e di acidia. Questa è una frase molto seria, molto importante, che mi chiama a conversione. Ma io cosa faccio? Pratiche? La pratica del rosaglio, la pratica della messa quotidiana, la pratica della coroncina della rabbina misericordia, la pratica della preghiera prima di mangiare, la pratica del segno di croce e via di seguito, la pratica di fare delle giaculatorie quando passo davanti a una chiesa o quando passo davanti a un campo santo. Sono solo pratiche che allora aggravano la mia coscienza di un peccato più grosso, perché sono fatte per altri scopi, che Dio mi benedica, che mi faccia andare bene le cose, che mi dia la salute, che mi tolga i problemi di torno e via di seguito, oppure sono preghiera, cioè intimità con Dio, vivere di solo Dio. Perdo tutto? O Dio. Mi va tutto male? O Dio. La preghiera è questo, vivere di Dio, non usare Dio per piegarlo ai miei scopi. Ah, io faccio la preghiera a Dio perché mi benedica, perché mi vadano bene gli affari e io mi ingrassi e diventi ricco. Sì, vabbè, fallo pure, però Dio non è il tuo servo, non è la tua servetta, non è il tuo mago della lampada che tu sfreghi con la preghierina recitando quattro preghierine e lui fa la tua volontà. Perché questa è una perversione, non è Dio che deve fare la tua volontà o la mia, sono io che devo fare la sua. E spesso sapete qual è la volontà di Dio? Scusate se ve lo dico, ma è così, è qualcosa che passa attraverso la sofferenza e la croce. Qual è la volontà di Dio che Gesù ha fatto? Quello che gli costa terribilmente. Padre allontana da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Suda sangue per entrare nella volontà di Dio, costa la volontà di Dio, è durissima, fa soffrire, ma è l'unica che libera, l'unica che dà vera profonda felicità e gioia in questa terra e per l'eternità. Oh, se gli uomini sapessero quale amico perfetto è lo Spirito Santo, dice Gesù, quale guida, quale maestro, se lo amassero, lo invocassero questo amore della Santissima Trinità, questa luce della luce, questo fuoco del fuoco, questa intelligenza, questa sapienza, quanto più saprebbero di ciò che è necessario sapere. Ma lo Spirito Santo cosa ne abbiamo fatto? L'abbiamo cacciato per dedicarci ai nostri comodi, al nostro egoismo, e allora la verità non ci si rivela, né se siamo preti, né se siamo laici, perché non è che siccome i preti generalmente non ce l'hanno, allora ce l'abbiamo noi, perché anche noi possiamo essere come il peggiore dei peccatori, come un fariseo, gente che non ha lo Spirito Santo, perché dedicata, sì sì, va benissimo criticare gli errori, ma non dimentichiamo che non siamo perfetti, nemmeno noi laici. Criticare i peccati della Chiesa non ci fa di una virgola più santi. No, non è criticare che ci fa più santi, è vivere santamente, e vivere santamente vuol dire entrare nella grazia di Dio. Pensate che Dio ha dato se stesso per annullare l'opera di Satana, continua, negli spiriti, e non potrà vincere ora i Satana che vi torturano? Quante tentazioni, quante sofferenze abbiamo anche a causa del fatto che c'è tanto male anche dentro la Chiesa e nel mondo, certo, ma lo Spirito Santo non può fare, cambiare tutto in un istante, e cambiare tutto dove? Non fuori di me, dentro di me, fuori può rimanere uguale. Se io penso agli ebrei sotto il nazismo, ai cristiani sotto le persecuzioni degli antichi romani, sotto le persecuzioni dello Stato, sotto gli islamici, sotto i comunisti e via di seguito, non hanno cambiato la situazione esterna, ma ci sono dei cristiani che hanno vissuto santamente in una situazione terribile. Perché? Perché il loro cuore ha aderito a Dio, hanno accettato la sofferenza e tutto è cambiato, perché è il nostro cuore che deve cambiare, e se cambia il cuore di un uomo, è cambiato il mondo.